Un premio importante dedicato ad un personaggio, Lucano, illustre, è arrivato alla quinta edizione, è stata fatta tanta strada. Sì, 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 abbiamo fatto parecchia strada, nonostante ci siano stati due anni e mezzo di Covid che non ci ha consentito di proseguire in continuità. Allora, abbiamo ripreso subito dopo il Covid con la quarta edizione l'anno scorso, a luglio, diciamo in un mese poco consono per i premi, però proprio per riprendere. Quest'anno siamo ritornati a fare il premio a tempo debito nei mesi indicati che sono in genere i mesi autunnali. Quindi quest'anno c'è una novità perché il premio per la prima volta non si svolgerà più nella sede di Lago Negro, ma abbiamo deciso di portarlo itinerante. Abbiamo scelto come prima sede l'atronico anche perché c'è un fatto che ci ha fatto scegliere l'atronico, in quanto il liceo scientifico De Lorenzo di Lago Negro, che adesso è accorpato in un istituto superiore, insieme all'ex liceo linguistico e al ragioneria e geometri, nell'istituto superiore De Sarlo, De Lorenzo, D'Alessandro, ha una sede staccata del liceo scientifico all'atronico, quindi c'è questa continuità, non l'abbiamo scelto a caso, volutamente. Speriamo che nel prossimo abbiamo in mente anche di portarlo in altre sedi, sempre come premi itinerante. La novità di quest'anno è la location, l'atronico, perché il premio diventa itinerante, ma era importante per tutta una serie di ragioni essere prima di tutto qui all'atronico. Certo, perché il tema, come sapete, è la montagna e l'acqua, l'acqua è il nostro punto di forza qui all'atronico. Da poco abbiamo pure approvato in consiglio comunale il brand latronico Città del Benessere, infatti i promotori hanno inserito nel bando proprio la categoria turismo lento e benessere, che ci riguarda più da vicino. Non ci fa altro che onore ricevere questo importante premio, proprio qui all'atronico, arrivato alla quinta edizione, infatti l'abbiamo pubblicato anche sul sito del Comune e mi diceva la Presidente della Castagnera Critica che stanno arrivando anche molte edizioni da tutta Italia. Quindi noi siamo felici e non vediamo l'ora di ospitare e dare questi premi ai vincitori. Sicuramente siamo onorati di poter ospitare come Comune di Latronico il premio perché siamo consapevoli di come questo premio riesca a dare onore sia a questo intellettuale, quindi nato al Lago Negro, di conseguenza nostro, Lucano, un intellettuale eclettico, e nello stesso tempo possa promuovere il nostro territorio, quindi quello che è l'Appennino Lucano, quello che sono le nostre montagne e i nostri rilievi e i monti più importanti e interessanti dal punto di vista naturalistico e ambientale. È stata una delle intuizioni che abbiamo avuto per dare la possibilità di far conoscere De Lorenzo oltre ai confini di Lago Negro. Vabbè, è una figura immensa, però diciamo che la conoscenza sia più a livello nazionale, internazionale e poco in Basilicata. Quello che le volevo chiedere, in Basilicata si conosce poco, nel senso è un personaggio così poliedrico ma soprattutto attuale, però si conosce ancora poco. Certo, tant'è che stavamo immaginando, da un'anteprima, la prossima edizione magari di andare nel Vulture, proprio perché De Lorenzo ha dedicato molto i suoi studi al Vulture, quindi immaginiamo anche di essere lì. Il premio De Lorenzo serve ovviamente a raccontare la figura di questo grande intellettuale, di questo grande scienziato, ma serve anche attraverso De Lorenzo a parlare della professione che ovviamente rappresenta anche lei, cioè del geologo. Sì, gli obiettivi sono molteplici, il premio sposta l'attenzione su questo personaggio importante che non va dimenticato, a cui si sono ispirate le titolazioni anche di molte scuole, spesso magari non si conosce il perché De Lorenzo sia stato, abbia rappresentato un riferimento e rappresenta ancora oggi un riferimento per le istituzioni. Per la categoria dei geologi è fondamentale, lui è stato un pioniere, è stato un pioniere che ha segnato l'inizio della geologia importante in Italia meridionale, non solo in Italia meridionale, a cui si sono ispirati tutti gli altri, chiaramente, luminari del settore e lo ha fatto conoscendo il territorio, camminando il territorio, descrivendolo. E queste sue descrizioni sono un nostro patrimonio che vogliamo recuperare, perché recuperiamo anche quelle parti di territorio che oggi sono state profondamente modificate anche dall'espansione urbanistica, dalle infrastrutture e che magari risulta difficile apprezzare. Il premio richiama l'attenzione rispetto a un tema generale, come avviene ormai da diversi anni, ma è l'occasione di dialogo, è l'occasione per far conoscere una professionalità, quella del geologo, il geologo professionista, ma anche il geologo ricercatore, il geologo studioso, perché tutti danno un contributo, dalla ricerca di base fino all'applicazione, sperando che poi questa applicazione trovi una giusta attenzione alle istituzioni, anche per evitare purtroppo criticità geologiche che poi producono vittime, danni alle strutture, all'infrastruttura, al patrimonio e che ci costringono a prendere atto in maniera passiva, quasi impotente, rispetto all'incisività di questi fenomeni naturali la cui percezione non è sempre diretta perché avvengono in forma improvvisa o lenti nel tempo e quindi la geologia attraverso De Lorenzo deve essere un momento di dialogo e anche di riflessione su tutto quello che accade, anche per contrastare la criticità di questa professione che negli ultimi anni ha avuto anche un calo non solo delle iscrizioni, anche delle iscrizioni ai corsi di laurea, ma anche cancellazioni dagli albi, quindi in qualche modo è stata depotenziata e quindi viene meno un elemento di osservazione, di attenzione sul territorio che deve aiutare le comunità.